Torna la notte ai confini. Vi aspetto da martedì 26 settembre alle 22 in diretta su Web Radio Network per la nuova stagione di Border Nights. E non dimenticate che per essere ascoltatori dovete essere in regola con tutte le vaccinazioni, quelle contro la stupidità. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Grazie a tutti.